loro sono al lavoro cosa mangia l'idraulico cosa mangia l'idraulico cosa mangia l'idraulico i miei cugini sono idraulici i miei cugini sono idraulici i miei cugini sono idraulici il mio cugino fa l'avvocato per quale giornale lavori per quale giornale lavori lavora come postino lavora come postino i miei genitori sono degli avvocati i postini lavorano di mattina i direttori leggono i nostri nomi lavora come postino vai dal meccanico vai vai cosa mangia l'idraulico cosa mangia l'idraulico cosa mangia l'idraulico i miei cugini sono idraulici 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 per quale giornale lavori per quale giornale lavori vai dal meccanico i miei cugini sono idraulici i miei cugini sono idraulici per quale giornale lavori per quale giornale lavori i miei cugini sono giochi ora lo vedo touculla